Bene, Dio vi benedica. Questa è la quinta parte della serie di video che sto facendo, che riguardano il dimostrare scritturalmente parlando che Gesù Cristo è Dio Onnipotente. Abbiamo visto nei precedenti video diversi passi dell'Antico Testamento dove Yahweh, o Geova per come traduce la traduzione del Nuovo Mondo, risulta essere Gesù Cristo. Così che continuiamo questa trattazione esaminando altri passi che confronteremo dell'Antico Testamento messi a confronto nel Nuovo Testamento dove appunto Gesù Cristo risulta essere Yahweh. Bene, adesso leggiamo il Salmo capitolo 8, la Bibbia che sto usando, che userò in questo video, è la Luzzi, del 1966. Allora, Salmo capitolo 8, versetto 1 e 2, leggiamo Qui ci sta normalmente il tetagramma, o Yahweh, o Geova, per come traduce la traduzione del Nuovo Mondo. Quando è magnifico il tuo nome in tutta la terra, o tu che hai posta la tua maestà nei cieli, dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti tu hai tratto una forza per cagione dei tuoi nemici, per ridurre al silenzio l'avversario e il vendicatore. Quindi, qui leggiamo delle parole profetiche, dove lo Spirito di Cristo, come si legge nella prima epistola di Pietro, capitolo 1, versetto 11, sta profetizzando riguardo a un evento che riguarda Cristo. Infatti, se andiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 21, i versetti che vanno da 14 fino a 16, vediamo l'adempimento di queste parole, e quindi si comprende che il Yahweh di cui si parla nel Salmo, capitolo 8, versetti da 2 a 3, è Gesù Cristo. Allora, leggiamo, versetto 14, Matteo, capitolo 21. Ecco, vedete? Dalla bocca dei fanciulli e dei lattanti hai tratto lode o hai tratto forza, come si legge nel Salmo, capitolo 8, versetto 2 a 3. L'adempimento è in Cristo, quindi il Yahweh di cui si parla in quel Salmo, nel capitolo 8, è Gesù Cristo. Questo dimostra appunto che Gesù Cristo è Dio. Un altro passo che ora andiamo ad esaminare insieme lo troviamo nel Salmo, capitolo 102. Salmo, capitolo 102. E comunque qui si parla di Yahweh, qui ci starebbe il Thetagram, se leggete il testo masoretico. Se leggete invece la settanta greca ci sta Kyrios, riferito a Cristo. e leggiamo Tuo eterno dimori in perpetuo. Ora, questo di cui si parla, Yahweh, che dimora in perpetuo, è Gesù Cristo. Come ora vediamo nel contesto, continuando a leggere, se andiamo nel versetto 24, si legge Io ho detto Dio mio, non mi portar via nel mezzo dei miei giorni, i tuoi anni durano per ogni età. Tu fondasti a pandico la terra, e i cieli sono l'opera delle tue mani. Essi periranno, ma tu rimani. Tutti quanti si logoreranno come un vestito, tu li muterai come una veste e saranno mutati, Ma tu sei sempre lo stesso, e gli anni tuoi non avranno mai fine. Queste parole le possiamo leggere anche in ebrei, capitolo 1, versetto 10 fino a 12, dove lo scrittore della lettera agli ebrei dice che queste parole riguardano il figlio Gesù Cristo. E qui notate come lo chiama il salmista Dio mio. E dice Tu fondasti la terra, i cieli sono l'opera delle tue mani, i cieli e la terra periranno, ma tu rimani, cioè in eterno rimane soltanto Gesù Cristo. Tutti quanti si logoreranno come un vestito, ma tu li muterai. Tu sei sempre lo stesso, e gli anni tuoi non avranno mai fini. In ebrei capitolo 13, versetto 8, leggiamo che Gesù Cristo è sempre lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quindi tu sei sempre lo stesso. Di chi qui sta parlando il salmo? Vedete il salmista lo chiama mio Dio. Nel versetto 12 leggiamo Tu eterno dimori in perpetuo, ci sta parlando di Yahweh. Quindi qui praticamente il Geova che traduce la traduzione del nuovo mondo non è altri che Gesù Cristo. Ma andiamo a leggere in ebrei direttamente capitolo 1, versetto 10 e 12, quando appunto lo scrittore della lettera degli ebrei vediamo che queste parole le applica a Gesù Cristo. Allora, il salmo l'abbiamo visto e qui ripete le stesse parole. Vedete il versetto 10? Allora nel versetto 8 ci dice, dice del figliuolo, cioè di Cristo. Ora leggeremo anche le altre cose che vengono dette riguardo a Gesù. Il versetto 10 dice ancora, cioè sempre del figliuolo, viene detto ancora che cosa? Vengono dette queste parole. Tu signore, nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani, essi periranno ma tu dimori. Inveccheranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno mutati, ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni non verranno meno. E a quale degli angeli Dio ha detto mai, siede alla mia destra finché abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabbello dei tuoi piedi? Ecco, a nessun angelo Dio ha detto questo appunto perché Gesù Cristo non è un angelo. Gesù Cristo è il figlio di Dio in qualità di uomo che è nato come uomo, ma in qualità di spirito Cristo è la parola di Dio che si è incarnata. Quindi Gesù Cristo ha due nature, una umana e una divina. Quindi Gesù Cristo per natura è figlio di Dio e quindi è Dio onnipotente uguale al Padre. Come dice qui la scrittura, a quale degli angeli Dio ha mai detto questo? E parlando, vedete, del Signore Gesù Cristo, dice tu signore nel principio fondasti la terra, cioè lui ha creato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Tutto invecchierà, ma Cristo rimane, vedete, tu rimani lo stesso e i tuoi anni non verranno meno. E' proprio le stesse parole che abbiamo letto nel Salmo 102, versetti da 25 fino a 27, dove vediamo che quelle parole sono applicate a Yahweh, quindi Yahweh sarebbe Gesù Cristo. E se leggete più avanti, se leggiamo più avanti in Ebrei capitolo 13, tu rimani sempre lo stesso, abbiamo letto, che cosa si legge in Ebrei capitolo 13, versetto 8, Gesù Cristo è lo stesso, ieri e oggi è in Eterno. Passato, passato, presente e futuro. Io sono, colui che sono, io sono Gesù, è lì io sono, dove nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice se non credete che io sono morirete nei vostri peccati, e dice anche in Giovanni 8,59 Prima che Abramo fosse, io sono. Quindi Gesù Cristo è lo stesso, ieri e oggi è in Eterno. E in Ebrei leggiamo, Tu, oh Signore, hai creato ogni cosa, tu rimani lo stesso, i tuoi anni non avranno mai fini. Perché Gesù Cristo è Dio Onnipotente. Ma voglio leggervi qua ora tutto questo contesto per comprendere alcune cose, perché qui viene detto anche, vedete, tu sei mio figlio oggi, ti ho generato, poi nella lettera ai Romani viene detto nel primo capitolo che Gesù è stato dichiarato figlio di Dio mediante la risurrezione dei morti. Poi qua nel versetto 6, nel versetto 7, dice Quando di nuovo introduce il primo genito nel mondo, dice tutti gli angeli di Dio lo adorino. Quindi gli angeli adorano Cristo. Poi dice che Gesù Cristo, dice ancora del figliolo, il versetto 8, il tuo trono, o Dio, è nei secoli dei secoli. E' lo scettro di rettitudine e lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la giustizia e hai odiata l'iniquità. Perciò Dio, l'iddio tuo, ha unto te d'olio di eletizia a preferenza dei tuoi compagni. Qui per compagni si parla degli uomini, perché Gesù Cristo si era fatto uomo. Notate che qui Gesù viene chiamato Dio. Dice che il trono di Dio, di Gesù Cristo, che è Dio, è in eterno, questo trono. Infatti io ho trattato nel precedente video, nella terza, mi sembra, quarta parte di questa serie di video che sto facendo, ho trattato questo argomento dove, come si legge in Apocalisse, capitolo 22, versetto 1 e versetto 3 e 4, in cielo, alla fine, dopo il millennio, vi sarà un solo trono. Quindi il trono del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo è un unico trono. Però qui viene detto anche che Dio, l'iddio tuo, ha unto te d'olio di eletizia. Quindi sembra, questo versetto, dire che Gesù Cristo abbia anche lui un Dio, al di sopra di lui. Ora, qui chiaramente il versetto è indeso come uomo. Gesù Cristo ha un Dio. In qualità di uomo, perché, ripeto, Gesù Cristo ha due nature, una umana, perché è nata, è nata da Maria, e quindi Gesù Cristo infatti è figlio dell'uomo, chiamato nelle scritture, ma Gesù Cristo è chiamato anche figlio di Dio, e Gesù Cristo comunque ha anche la parola di Dio, che era presso il Padre dal principio. Quindi in qualità di parola di Dio, Gesù Cristo non ha avuto un inizio. In qualità di uomo, è stato, diciamo, generato come uomo nel seno di Maria, e mediante poi la resurrezione dei morti, è stato dichiarato con potenza figlio di Dio, come si legge nella lettera di Romani, capitolo 1, che potete leggere per conto vostro. Ora, perché qui Gesù viene chiamato, cioè, Gesù chiama suo Padre Dio, il Dio mio? Ecco, questo lo dobbiamo andare a vedere. Allora, quello che si legge qui, il trono Dio è nei secoli dei secoli, lo potete leggere nel Salmo, capitolo 45, versetto 6. Ma nel Salmo 22, vediamo perché Gesù Cristo, Salmo 22, perché Gesù Cristo chiama Dio suo Padre. Anche quando era in croce, quando Gesù stava morendo in croce, Gesù Cristo disse queste parole profetiche, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, Salmo 22, versetto 1. Eppure dice, tu sei il Santo. Ora, io non leggo tutto perché, sennò ci vorrebbe troppo tempo, ma potete leggere per conto vostro tutti questi passi. Allora, il Santo, Gesù viene chiamato qui il Santo. Se leggete Atti 3, 14, Gesù è chiamato il Santo, il giusto. Infatti l'Apostolo Pietro dice, voi avete crocifisso il Santo, il giusto. E dice, tu sei il Santo circondato delle lode di Israeli. E il Santo era stato abbandonato sulla croce da Dio, quindi si era fatto uomo, la parola di Dio si era incarnata, si era fatto uomo, e stava soffrendo per i nostri peccati sulla croce. Ecco che lì Gesù disse queste famose parole, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E qui, rinunemente, molti pensano, non hai visto Gesù, quindi non è Dio, perché se dice Dio mio, significa che al di sopra di lui c'è Dio. Ebbene, queste parole le dobbiamo comprendere anche alla luce del contesto. Perché Gesù dice Dio mio? Ci sono dei passi in cui, appunto, Gesù chiama il Padre lì Dio mio. Ma vedete però, come dice qui la scrittura, Gesù, il contesto, vediamo che lui era in croce, stava soffrendo, infatti nel versetto 6 dice io sono un verme e non un uomo, il vituperio degli uomini e lo sprezzato dal popolo, chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo, dicendo, e si rimette nell'eterno. Lo liberi dunque, lo salvi, poiché lo gradisce. Sì, tu sei quello che mi hai tratto dal seno materno. Badate bene ora queste parole. Gesù viene generato dallo Spirito Santo nel seno materno di Maria. Ecco che qui c'è la natura di Cristo in qualità di uomo, perché Gesù ha due nature. Quindi non si sta parlando della creazione di Cristo in qualità come Spirito di Cristo o come parola di Dio che poi si è incarnata, perché la parola era presso il Padre nel principio, quindi la parola non è stata creata. Ma come figlio di Dio, come uomo, Gesù viene generato, qui dice, nel seno materno e come si legge nelle scritture, fu generato per mezzo dello Spirito Santo. Poi dice, mi hai fatto riposar fidente sulle mammelle di mia madre. La madre di Gesù è Maria. Elisabetta, quando vede Maria, disse, la madre del mio Signore. E quindi Maria è la madre del nostro Signore, Gesù Cristo. In qualità di uomo, quindi Gesù Cristo è stato un uomo, ha avuto una madre umana. E allora qui dice la scrittura, nel versetto 10, a te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre. Ecco. Quindi, quando Gesù è nato come uomo sulla terra, quindi il corpo, carne e sangue di Gesù viene generato, diciamo, nel seno di Maria, si forma il corpo carnale, carne e sangue, l'uomo Gesù si forma nel seno di Maria, qui si adempia questo passo, a te fui affidato fin dalla mia nascita. Tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre. Guardate che la scrittura non dice che prima che Gesù nascesse come uomo, non dice la scrittura tu sei il mio Dio fin da quando sono stato creato in principio. No. La scrittura dice tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre. Punto. Quindi la scrittura non la possiamo interpretare a comodo nostro. La scrittura si spiega da sé. Senza nessuna interpretazione. Ecco che Gesù in qualità di uomo poteva dire di avere un Dio. Parla del Dio mio. Ma è normale perché era uomo. Si era fatto uomo. Infatti, quindi dovete ben tenere presente tutto quindi il contesto. Salmo capitolo 22 Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato ma in qualità di uomo perché Gesù era sulla croce che stava soffrendo era uomo si era spogliato della sua divinità. Quindi la parola si era fatta carne. Addirittura ora vediamo che la scrittura dice che la parola si era fatta inferiore pure agli anceli. Quindi Gesù Cristo in qualità di uomo era inferiore pure agli anceli. Quindi continuando qui a leggere nella lettera agli ebrei leggiamo queste parole nel capitolo 2 di fatti non è ad angeli che egli cioè Dio Dio Padre ha sottoposto il mondo avvenire del quale parliamo. Quindi Dio Padre non ha sottoposto il mondo avvenire il mondo futuro che noi stiamo aspettando ad angeli. Quindi Gesù Cristo non è un angelo altrimenti qui avremmo letto che l'avrebbe sottoposto agli angeli. Se Gesù era un angelo creato da Dio il mondo avvenire sarebbe stato sottoposto ad angeli di cui Gesù Cristo era il capo degli angeli. Ma vediamo che qui Gesù Cristo non è un angelo perché appunto la scrittura dice non è stato sottoposto agli angeli. Anzi come abbiamo visto prima la scrittura nel versetto 7 capitolo 1 versetto 7 dice tutti gli angeli di Dio lo adorino cioè adorino Cristo. Continuando ora a leggere nel versetto 8 le lettere agli ebrei capitolo 2 leggiamo ancora con il sottopoglio allora l'hai coronato di gloria e onore e tu gli hai posto ogni cosa sotto i piedi. Il Gesù Cristo in qualità di uomo gli è stata sottoposta ogni cosa sotto i piedi da parte del padre. Ora il versetto 8 dice col sottopoglio tutte le cose egli non ha lasciato nulla che non gli sia sottoposto. Ma al presente non vediamo ancora tutte le cose che gli siano sottoposte. Ben vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli cioè Gesù coronato di gloria ed onore a motivo della morte che ha patita onde per la grazia del Dio gustasse la morte per tutti. Infatti per condurre molti figlioli alla gloria ben si addiceva a colui che per cagione della quale sono tutte le cose e per mezzo del quale sono tutte le cose cioè perché Gesù è il creatore di rendere perfetto per via di sofferenza il duce della loro salvezza poiché è colui che santifica e quelli che sono santificati provengono tutti da uno per la quale ragione egli non si vergogna di chiamarli fratelli dicendo annuncerò il tuo nome ai miei fratelli in mezzo alla radunanza canterò la tua lode quindi Gesù Cristo si è fatto uomo affinché lui poteva chiamare suoi fratelli gli esseri umani quindi noi siamo fratelli chiamati da Gesù Cristo e Gesù dice annuncerò il tuo nome ai miei fratelli ora notate il versetto 9 qui dice che Gesù Cristo si era fatto inferiore o era stato fatto inferiore agli angeli qui dice era stato fatto ma se leggete Filippesi dice che Gesù Cristo si è fatto perché Gesù comunque è la parola nessuno lo ha obbligato a fare quello che lui ha fatto l'ha fatto lui di sua spontanea volontà allora ben vediamo però colui che è stato fatto di poco inferiore agli angeli cioè Gesù Cristo quindi Gesù Cristo era inferiore agli angeli perché si era fatto uomo e quindi era stato affidato alla custodia alla cura della madre Maria e chiaramente aveva bisogno anche lui della cura di Dio come tutti noi per questo dice il salmo a te fui affidato sin dalla mia nascita sin dal seno di mia madre tu sei il mio Dio per questo motivo perché Gesù si era fatto uomo ed era quindi inferiore agli angeli quindi tutto questo discorso va fatto va tenuto sempre conto di questo fattore che qui si sta parlando della natura umana di Cristo ma se noi dobbiamo parlare della natura in qualità di spirito di Dio spirito di Cristo o la parola che si è incarnata Gesù Cristo è Dio onnipotente uguale al Padre se parliamo diciamo dall'altra faccia della medaglia infatti nel versetto 13 continuando a leggere dice di nuovo io metterò la mia fiducia in lui e di nuovo ecco me i figlioli che Dio mi ha dati quindi noi siamo chiamati anche figlioli di Cristo infatti Gesù in Isaia nel capitolo 9 versetto 5 è chiamato Padre Eterno Dio Potente ora nel versetto 14 ancora leggiamo poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne anche egli cioè Gesù vi ha semimilmente partecipato ecco perché sulla croce soffriva come soffriamo noi come possiamo soffrire noi visto che noi siamo fatti anche di carne e sangue così Gesù alla stessa maniera ha partecipato alle sofferenze essendo di carne e sangue infatti continuando a leggere perché lui ha partecipato al sangue e alla carne anche egli vi ha semimilmente dice partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte cioè il diavolo e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù poiché certo egli non viene in aiuto ad angeli ma viene in aiuto alla progene d'Abramo la onde egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli affinché diventasse un misericordioso e fedelsommo sacerdote nelle cose appartenenti a Dio per compiere l'espiazione dei peccati del popolo vedete egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli per questo Gesù è stato fatto per un po' di tempo dice per poco inferiore agli angeli cioè Gesù Cristo perché appunto egli doveva essere fatto in ogni cosa simile ai suoi fratelli quindi anche noi abbiamo Dio abbiamo bisogno di affidarci a Dio così anche Gesù Cristo come uomo si doveva anche lui affidare a Dio a Dio Padre ma questo non significa che Gesù Cristo non è Dio onnipotente soltanto per questo fatto perché lui si era fatto uomo soffriva come noi pregava e aveva bisogno di affidarsi a Dio e quindi lui si affidava a Dio Padre perché Gesù Cristo è figlio dell'uomo ma Gesù Cristo ha due nature una in qualità di Dio la parola di Dio incarnata quindi leggete il primo capitolo di Giovanni che vi spiega questo in Giovanni capitolo 1 versetto 3 dice che ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola e senza della parola cioè senza di Cristo neppure una delle cose che sono state create è stata fatta quindi non c'è una cosa che è venuta all'esistenza senza della parola e quindi Gesù Cristo non è una creatura di Dio ma Gesù Cristo come abbiamo visto in ebrei capitolo 13 versetto 8 è lo stesso Gesù Cristo è sempre lo stesso ieri oggi è in eterno e abbiamo prima visto anche tu rimani sempre lo stesso abbiamo letto prima nel Salmo capitolo 102 che Gesù Cristo rimane in eterno è sempre lo stesso tu hai creato ogni cosa e concludo qui la lettura poiché in quanto egli stesso cioè Gesù ha sofferto essendo tentato può soccorrere quelli che sono tentati vedete il motivo perché Gesù si è fatto uomo egli stesso dice ha sofferto e sulla croce infatti vediamo che Gesù Cristo ha sofferto tantissimo ecco perché lui disse Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato a te fui affidato fin dal seno di mia madre tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre queste sono le parole che dice Gesù non disse tu sei sempre stato il mio Dio fin da quando mi hai creato no perché Gesù esisteva esisteva già dal principio prima che Abramo fosse io sono dice Gesù e Gesù Cristo è sempre lo stesso quindi ritornando alle parole che qui abbiamo letto tu signore nel principio fondasti la terra e i cieli sono opera delle tue mani essi periranno ma tu dimori in eterno cioè invecchieranno tutti come un vestito e li avvolgerai come un mantello e saranno mutati ma tu rimani lo stesso e i tuoi anni dice non verranno mai meno quindi Gesù Cristo ripeto in ebrei nel capitolo 13 versetto 8 leggiamo è sempre lo stesso ieri oggi e in eterno quindi questo era per quanto riguardava il il salmo vedete questo è il salmo capitolo 102 tuo eterno dimori in perpetuo vedete sono le parole che si leggono nella lettera agli ebrei rivolte a Gesù Cristo Gesù Cristo è lo stesso ieri oggi e qui vediamo che Gesù Cristo è chiamato Dio e dice la scrittura nel salmo tu hai fondato a antico la terra e i cieli sono l'opera delle tue mani essi periranno ma tu rimani tutti quanti si logoreranno come un vestito tu li muterai e qui dice tu sei sempre lo stesso e gli anni tuoi non avranno mai fini quindi Gesù Cristo è eterno senza inizio e senza fine in qualità di uomo ha avuto diciamo un principio in qualità di uomo perché si era fatto uomo ma la parola però preesisteva esisteva dall'eternità quindi lo spirito di Cristo è sempre esistito è eterno ha creato ogni cosa ma in qualità di uomo ecco che nasce dalla Vergine Maria e e lì appunto si adembiano le parole che abbiamo letto nel nel salmo nel salmo capitolo 22 quando Gesù dice Dio mio Dio mio perché mi hai abbandonato a te fui affidato fin dalla mia nascita tu sei il mio Dio fin dal seno di mia madre non prima ma solo dal momento che Gesù nasce come uomo viene affidato a Dio padre perché Gesù abbiamo visto ha partecipato in ogni cosa anche alle sofferenze perché si è fatto uomo era carne e sangue doveva essere partecipe di ogni cosa riguardo ai suoi fratelli ecco perché Gesù ora non si vergogna di chiamarci fratelli perché lui ha partecipato anche lui come noi siamo carne e sangue anche Gesù è stato uomo carne e sangue e così Gesù non si vergogna di chiamarci fratelli e noi possiamo anche essere siamo chiamati nella Bibbia abbiamo visto in ebrei siamo chiamati figlioli di Cristo bene concludo questo video e poi farò l'ultima parte la sesta parte e vedremo altri passi scritturali grazie a tutti